Le farò delle domande semplici. Lei risponderà con frasi brevi solo ciò che ritiene assolutamente vero. Assolutamente vero. Ce la farò. Ora, con la massima brevità, come si chiama? Stanton Carlyle. Lei è un vero medium? Sì, sono un medium. Signor Carlyle. Dottoressa, guarda un po'. La prego, si distenda. Sa leggere nel pensiero? Sì, posso. Nelle giuste circostanze. Dì risposte brevi. Cosa voglio? Essere scoperta, come chiunque altro. Lei è in contatto con l'aldilà? Beh, abbiamo avuto degli incantatori di serpenti in passato. Ce ne occupiamo. Tu non inganni le persone, Stan. Si ingannano da sole. Ti ho dato una fortuna. Voglio dei risultati. Quando finirà? Voglio saperlo. Se deludi le persone sbagliate, il mondo ti stritola molto, molto in fretta. Sì. Grazie a tutti.